Esercitazione, esercitazione, regione 0, regione 0 da Casentino 24-01 passo. Una maxi esercitazione di protezione civile a mettersi alla prova è la Val di Chiana Est con tre giorni dal 7 al 9 ottobre di esercitazioni ed attività di informazione sulle modalità di intervento in casi di calamità come incendi o eventi idrogeologici tra i comuni coinvolti da Fogliano della Chiana, Cortona e Castiglion Fiorentino. Nella prima giornata una simulazione d'incendio boschivo che lambisce la frazione di Pergo con procedure di evacuazione che hanno riguardato le abitazioni vicine e la scuola. E la grande senti suonare, subito tutto devi lasciare, senza scorrere e ingere e urlare la fila dei serpente dei ripari. Montata nella frazione anche una tenda per il supporto alla popolazione locale svolte infine simulazioni di intervento del personale sanitario. Nella giornata di sabato e in quella conclusiva è poi prevista un'esercitazione in uno scenario di emergenza idrogeologica con allagamenti e frane nei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Fogliano. Il modello prevede anche l'apertura di un centro di soccorso alla palestra di Camucia. Il modello prevede anche l'apertura di Camucia.